Salve a tutti e benvenuti su All Beats TV, all for you tanto per voi viene pure tu, su All Beats TV andiamo con un'altra piccola canzocina dal titolo Cose vive, vado, uno, due e tre sono cose che succedono ai vivi, ma di vivo in giro poi cosa c'è? La 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 la, tra mugugni e rimpianti, si lavora a mani nudi oppure ti metti i guanti La 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 la, ma come sai, il peggio non finisce mai, questi momenti sono tristi oramai Ci abbiamo fatto il callo, tanto lo sai, chiusi a sperare che finisca Così si può di nuovo tornare a respirare, aria fresca Sono cose che succedono ai vivi, ma di vivo in giro poi cosa c'è? Ma noi siamo ancora qui, nonostante i parassiti stanno lì Tra mugugni e rimpianti, si lavora a mani nudi oppure ti metti i guanti Ma come sai, il peggio non finisce mai Si proprio non finisce mai All for you, all for you, tanto prima o poi viene pure tu Puoi ricevere mai restate fermi, ma quanto mai Cavallone gigante per tutti quanti Con questo vi saluto e vi rimando alla prossima E come sempre, all for you, all for you, tanto prima o poi viene pure tu Arrivederci